quando a studio che da un po' che non lo vediamo buonasera a tutti questa sera abbiamo un altro grande ospite e ragazzi vado dritto al sotto dicendo che questa non è una bugia non è una bugia questa sera abbiamo con noi Luca Bottale la voce di Usop o Asop come volete nell'anime italiano di One Piece eccolo a voi ciao a tutti ciao, bentrovati grazie a One Piece.it a Tosca, a Reverendo a Panda Studio per avermi invitato che bello, che bello io dicevo anche prima che sono emozionato veramente perché non vedevo l'ora di intervistarti di parlare è veramente un piacere immenso veramente ma grazie infatti non ci siamo attrezzati proprio per nulla questa sera è stata un'improvvisata diciamo sì, una cosa così è capitata per strada ci siamo trovati io c'ho il cartonato di Rufi ma non c'ho quello di Rufi bisogna avere quello di Rufi è famiglia per cui va bene è famiglia assolutamente saluto allora Alessandro Attanasio è iniziato grazie sì, piano piano entrano prima piano entrano tutti noi andiamo in live in contemporanea sia su Facebook che su Twitch no? solitamente su Twitch ci sono quei 5-6 minuti iniziali in cui arriva gente perché arriva la notifica chi ci segue quindi c'è qualche minuto quindi nei primi 5-6 minuti racconteremo barzellette Luca lo mi senti tu? allora il problema è che quelle che so io insomma le eviterei in pubblico come dire non mi sentirei non mi sento così ecco sarebbe un bel modo di rompere il ghiaccio però certo certo immagino allora facciamo una cosa alla fine ce la racconterai una di queste quando stacchiamo tutto in privato ecco non lo so vabbè ne riperliamo ne riperliamo non dovevo dirlo no anche questo poi è il campo di panda lui solitamente su queste battute del genere ci campa praticamente ok ok vabbè caso mai ti passo due o tre cose perfetto ma sono vecchie poi sono vecchie il problema è che è roba che è vecchia come il cucco per cui probabilmente ma ritornano sempre come gli anni 80 c'è l'età dei datteri un grande raccontatore di berzellette devo dire fantastiche anche se poi alle volte magari ovviamente capita che ne riracconti alcune che già so ma che comunque mi fa ridere un botto è Pietro Ubaldi Pietro è vabbè lui è grande in tantissime cose ma anche appunto nel raccontare le berzellette fa veramente fa veramente io lo incontrai a un comic-on di due anni fa due anni fa sì quest'anno non c'è stato quindi due anni fa è un'altra persona squisita Pietro è fantastico fantastico veramente un grande compagno di lavoro un grande maestro perfetto grande allora io direi vai sì direi di iniziare Luca ti inizio io ti faccio io una domanda dai allora come tu pensai il doppiaggio italiano è un'eccellenza questo è è una cosa innegabile come scusa no no facevo il pirla come tu pensai ero già pronto per la per la per la no scusami e niente non dicevo che appunto il doppiaggio italiano è un'eccellenza quindi la cura che professionisti come te come altri che riversano in questo lavoro è ammirata in tutto il mondo ora con tutto il rispetto per gli altri paesi ma cosa è che secondo te manca al doppiaggio tedesco per esempio o spagnolo e che magari il doppiaggio italiano ha allora allora il doppiaggio tedesco onestamente mi è capitato secoli fa una volta di vedere un film credo con Doris Day e Cary Grant probabilmente insomma in tedesco e mi ha lasciato abbastanza perplesso ma mi faceva all'epoca io non facevo ancora questo mestiere e quindi mi aveva fondamentalmente fatto strano sentir parlare gli attori con una voce completamente diversa rispetto alle voci a cui eravamo a cui sono e siamo abituati a sentire durante quando vediamo tipo film di quel periodo lì e così mi è capitato invece poi di vedere di ascoltare dei doppiaggi per esempio spagnoli o francesi ho vissuto un po' di anni in Francia e io ero Dallas e Magnum P.I ho iniziato a vederli in francese e poi in italiano e veramente la voce di Magnum P.I erano il giorno e la notte perché noi abbiamo nelle orecchie la voce di Natale è ciravolo splendida e così la voce di Magnum P.I invece francese è quella di un attore che faceva una voce che sembrava paperino che devo dire però sul personaggio ci stava da Dio chiaro con Natale diventa un figo della Madonna come Magnum P.I figone tutto l'aglio tirava fuori più quello spirito cazzaro del personaggio quindi probabilmente hanno fatto un ragionamento più sul personaggio non lo so perché poi era la stessa voce che doppiava Gargamella nei punti francese quello francese sì 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 loro secondo me hanno un modo diverso di stare a microfono o comunque c'è qualcosa di diverso nel discorso del mix non lo so adesso sinceramente è tanti anni che non vedo qualcosa di doppiato in un'altra lingua quando mi capita di vedere certe cose in multilingua che possono essere quelle i prodotti fondamentalmente che puoi vedere certe cose che puoi trovare su YouTube fondamentalmente di prodotti Disney però allora sono magari le canzoni e lì devo dire che veramente tutte le cantanti adesso non mi ricordo credo che fosse di Frozen insomma tutte le cantanti praticamente avevano lo stesso timbro ok poteva esserci un'estensione maggiore o menore io per quello insomma ci capisco poco però avevano tutto un qualcosa di simile tra di loro gli spagnoli a me sembra che il suono sia sempre oltre il televisore che quasi come se ti venisse addosso quasi un nuovo sound si è qualcosa di strano ma questo è anche quando ti capita di ascoltare delle pubblicità in televisione spagnole leggevo adesso Alino Notante diceva povero Magnum ma no ma era figo guardate era qualcosa di strano è stato uno shock culturale puoi sentirlo parlare che cosa devo dire poverino con la Ferrari no questo sì sì kit kit sì sì e quindi boh hanno qualcosa del genere poi sicuramente secondo me è una cosa che viene fatta sicuramente nel doppiaggio italiano è cercare di veramente di ricreare quel quel momento lì che si si vede sullo schermo che si vede in televisione che sia un attore o che sia un personaggio di un anime o di un altro o di un cartone animato per cui secondo me c'è proprio più un lavoro un lavoro con gli attori perché poi quello siamo e quindi di cercare di ricostruire quel quel sentimento quell'emozione quella quella cosa poi ovviamente con il grande aiuto del del personaggio che si sta doppiando quindi per esempio nel caso di Asop del di come è disegnato del del doppiatore della voce originale giapponese del del colore della scena insomma tutto quello che magari un attore in carne e ossa ci può dare con un movimento che magari è più difficile da ottenere in un in un'animazione però c'è tutto un contesto che comunque ci dà un un grande aiuto come se fossero indizi diciamo che delineano il personaggio e che vi aiuta con la voce assolutamente assolutamente perché fa parte comunque della scrittura della scena per cui come quando si 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 legge un manga la costruzione della 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 vignetta ne parlavo me lo spiegava un amico che che fa lo sceneggiatore di di fumetti e mi spiegava appunto l'importanza del della dimensione delle vignette della sequenza delle vignette di quello che ti dà la velocità o la lentezza della scena per il girare la pagina le pagine pari le pagine dispari cioè mi ha aperto tutto un mondo che assolutamente non conoscevo e tutto questo viene anche ricostruito nel momento in cui viene fatto l'anime o viene fatto un film perché poi nasce da uno storyboard e quindi ha quel tipo di di ritmo di costruzione insomma io sono prolisso ve lo dico subito guarda aspettiamo io mi stavo incantando sempre Luca no no per me davvero potresti parlare per ore per me no no però fermatemi perché mi abbattono dal balcone di fronte la prossima la prossima domanda te la faccio io noi prima in pre-live in privato stavamo parlando del un po' del mondo del teatro ci stavamo raccontando qualche aneddoto io anni fa lavorai con un doppiatore Vincenzo Avolio che pochi lo conoscono perché diciamo è molto mainstream però è colui che ha dato la prima caratterizzazione al commissario Winchester dei Simpson la caratterizzazione quella in napolitano lavorando dovevamo andare in scena con uno spettacolo di Birandello alla prima lettura del copione mi sono reso conto che era subito entrato nel personaggio cioè quindi immediatamente con le giuste intonazioni con le giuste emozioni cioè qual è il segreto vorrei sapere beh allora boh quello bisognerebbe poterlo chiedere a lui però sicuramente allora magari facendo una scuola di teatro o non so che cosa magari se l'era letto a casa può essere anche quello può essere anche quello e poi c'è è chiaro che in prima ma immagino che poi nella costruzione poi della messa in scena con il regista e tutto quanto ci sarà stato sicuramente poi un'evoluzione di quello che lui ha fatto in prima lettura leggerissima leggerissima ok 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 boh alle volte che poi Pirandello è di una difficoltà bestiale perché incomincia io non sono quello che tu credevi che io fossi ma sono colui il quale pensa di essere guardandosi nei tuoi occhi mentre guarda di sottecchi e per cui già quello appunto riuscirà a leggerla così eh lì è talento capacità di concentrazione già in prima lettura sicuramente in questo il doppiaggio aiuta tanto nel senso che spesso e volentieri come ormai credo sappiate in molti non è che hai proprio tutta questa possibilità di vederle mille mille volte le scene chiaro con un personaggio che tu conosci da tanti anni che è che fai che doppi da tanto tempo oppure con un attore che doppi da tanto tempo ormai assimili i suoi i suoi ritmi i suoi i suoi respiri il suo modo di 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 recitare però ti può sempre anche sorprendere in un in un in un film in un telefilm o in un anime ci può essere sempre qualcosa di e poi dare cerchi alle volte noi siamo abituati a leggere ma a scorrere gli occhi sulla riga le parole la punteggiatura il linguaggio hanno comunque sempre un peso e probabilmente sicuramente lui faceva faceva questo cioè nel momento in cui leggeva guardava veramente quello che stava leggendo invece che scorrere con gli occhi non so se riesco a spiegare sì 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 non capito bene capito bene io e quindi poi poi c'è proprio capacità personale quello è culo c'è culo oh c'è Mosè Singh in chat ciao Mosè ciao Mosè ciao Luca ha scritto sì ciao sì sì ho visto ciao Mosè ciao bello mio allora Luca venendo a One Piece proprio ricordi il primo incontro con l'opera il primo approccio la prima volta che l'hai doppiato com'è stato ci racconti un po' le sensazioni dunque se il mio ricordo non mi inganna perché si parla veramente di un botto di anni fa era una scena dove ASOP era su un albero scusate io dico ASOP ma perché sono abituato no no nessun problema abbiate pietà era su un albero e c'era questa ragazzina in una casa c'era questo maggiordomo era veramente credo la sua prima apparizione sicuramente non mi ricordo più il nome di lei non mi ricordo più il nome maggiordomo no perché allora dovete capire una cosa perché alle volte ci sono delle persone super deliziose che magari ti capita di incontrare alle volte le rare volte che sono andato a qualche incontro tantissimi anni fa che ti dicono ah nell'episodio 15 di che ti dicono un nome tu hai doppiato il ragazzo con la maglietta gialla e dice te lo ricordi? e tu dici io gli ho detto ma veramente no la faccia di questa ragazza proprio è passata dall'orrore al disprezzo più totale perché probabilmente per lei era una scena che era stata importante per mille motivi tutti giustissimi però per me era stata una volta che avevo fatto quella cosa lì morta finita e e e quindi alle volte ti trovi nell'imbarazzo e dicono ti ricordi di quella volta magari è una cosa che ho doppiato 12 anni fa a malapena ricordo quello che ho fatto l'altro ieri per cui fate un po' voi i conti no ma è giusto è giusto così a voglia per cui però sì io mi ricordo questa cosa che è stata una delle prime scene eh di di lui e non sapevo ancora niente dell'anime non sapevo ancora niente del manga non sapevo eh che tipo di di riscontro avrebbe potuto avere e di affetto che avrebbe potuto portare eh sia a a One Piece che a a noi eh doppiatori italiani della della serie insomma che è stato devo dire dopo vent'anni non può parlarne quindi eh no capisci che non li mandano più in onda esatto cosa dice Antonio dice Luca di ricordo posa annuisci sempre no ma quello è proprio perché io ho i tremori ormai è l'età quella penso si riferisse al fatto annuisci sempre di quando ti chiedono le cose tipo l'episodio 15 così annuisci sì sì era un consiglio farò così ok va bene ah mi toglie il like scusa no 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 adesso farò così hai ragione sì rido e svengo praticamente ti ricordi quel posa tipo il coniglio quando vede l'aquila ma anche mossa tipica di uso a passo punto eh me l'aspetterei da lui potrebbe essere potrebbe essere in effetti ci potrebbe stare nel suo nel suo modo di fare allora allora tocca a me tocca a me ok Luca voglio farti una domanda un po' personale tu hai doppiato molti personaggi anime e non solo quindi il tuo lavoro riguarda ovviamente l'interpretazione di personaggi di manga videogiochi di film spostandoci un attimo da questo mondo vorrei chiederti c'è invece un personaggio di un romanzo che hai letto di recente che ti è piaciuto particolarmente dunque qui c'è proprio sai che stavo pensando beh allora un romanzo che ho letto da poco e di cui che bello non mi ricordo il titolo ah no io sono un gatto si chiama è un autore giapponese era un romanzo che avevo già letto poi mi è ritornato in mano ho detto me lo rileggo ed è la storia di questo gatto perché io ho fatto un gatto in un in un anime di eh buona Salem Salemi in Sabrina no ma rimanevo sempre sul era Manie Manie eh sì forse è di Murakami il libro però non sono mica sicuro sai io sono un gatto allora vediamo no ma non credo che sia Murakami no dice no Natsume Soseki comunque ah ecco eh anche perché poi credo che sia un romanzo scritto abbastanza è 1905 ecco decisamente tanti anni fa sì 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 ma modernissimo come modo di scrittura eh ed è tutto visto questo gatto vive nella casa di un professore spiantatissimo che è incacchiato con tutti odia tutti ed è da tutti odiato anche perché è veramente un po' uno scrunzone eh però boh quello è è figo eh se no avevo letto recentemente di Graham Greene Il nostro agente a Lavana romanzo divertentissimo da cui è anche già stato fatto un film eh un altro beh di Murakami 1Q84 ok Norwegian Wood eh Norwegian Wood non l'ho letto ancora lo eh no non l'ho letto eh poi cos'è che un po' eh eh Kafka sulla spiaggia no eh però quando lessi eh tantissimi un po' di anni fa eh di eh eh schnitzler eh quello da cui è stato tratto poi alla fin fine il il film ma che bello che figura di cacchio non mi ricordo mezzo titolo ma no ma non ti preoccupare ma guarda Luca figura di quello da qui è stato tratto a Ed Weishat eh è stato tratto da un il film di Kubrick è stato tratto da un da un quello con Nicole Kid sì ma è stato tratto da una cosa di schnitzler mi sembra da un lavoro di schnitzler quando l'ho letto ho detto cavoli questo è un film della madonna però non sono Kubrick e quindi e lui dopo un po' sì il libro piccolino Alinon assolutamente però non mi ricordo il titolo e e e quello era veramente super figo ogni tanto quando leggo dei romanzi eh me l'immagino me l'immagino eh prima leggere dei lettori non ci si ricorda i titoli ecco la dirò questa me la me la rivendo perché secondo me la prossima volta ricordo sai come essendo un lettore mi ricordo no ma ci sta dai ci sta e così boh ce ne sono di romanzi di cioè tipo Memoria di un clown questo me lo ricordo di Eirich Boll bellissimo il caso Maurizius che anche quello forse è di Boll però non me lo ricordo però ci avevano fatto uno sceneggiato credo negli anni sessanta eh era un romanzo che ho letto bah ok anche vent'anni fa se non trenta guarda ti vengo in salvo perché vedo che grazie mi dissocio mi dissocio da questa cosa anch'io assolutamente secondo me aveva tutto aveva assolutamente torto guarda per cui signore e signore vi presento Panda Studio Panda Studio lui è incredibile a parte gli scherzi a parte gli scherzi no vabbè a parte gli scherzi abbiamo doppio sogno grazie Allinon era doppio sogno il Disney è stato tratto Ice Wax ok alleluia no se no io vado a stare poi dopo me lo vado a cercare lo cercavi eh sì ci si incaponisce ecco però si può dimmi no dico tornando sempre al mio unico rapporto che ho avuto tra attore e doppiatore quindi c'è quello conosco quello di quello ti chiedo io quando quando dovevamo preparare la la messa in scena mi rendevo avvertivo quest'astio che c'era tra gli attori che facevano solo gli attori e i doppiatori o meglio mi spiego bene eh gli attori prendevano eh avevano quest'astio verso i doppiatori perché dicevano ah sono subito pronti a una prima lettura già sanno quello che devono fare mentre l'attore si doveva leggere il copione più e più volte doveva sentire ciò che eh le indicazioni del regista viceversa invece il doppiatore diceva oh guarda gli attori stanno già alla quinta lettura la sesta lettura stanno a la sesta prova ancora non non hanno capito qual è l'interpretazione giusta da dare cioè ma esiste quest'astio quindi tra attori e doppiatori tra poi ci sono doppiatori che che fanno anche gli attori a volte che si improvvisano attori ma allora eh a me è capitato solo una volta di sentirmi dire una roba del genere ma onestamente diciamo che la mia risposta è stata è stato un cortese va a cagare ma nel senso non l'ho detto va a cagare ma il contesto il significato era quello a me è capitato di lavorare al piccolo dove io facevo una micro 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 parte eh nella storia della bambola abbandonata che era uno spettacolo che aveva scritto Giorgio Streller prendendo il cerchio di gesso del caucaso di la storia della bambola abbandonata ha fatto un mix tra la storia della bambola abbandonata e il cerchio di gesso del caucaso da Sastre e da Brecht per cui c'erano c'era una micro orchestra eh e gli attori eh diciamo cantavano diciamo brechtianamente insomma ed ha avuto la fortuna di lavorare con con degli attori che poi sì facevano hanno fatto anche doppiaggio perché c'era Gianfranco Mauri c'era Narcisa Bonati che è stata una mia eh amatissima insegnante c'era eh Tarascio c'era Mimmo Craig altro grandissimo attore eh la Liana Casartelli ma assolutamente nessuno di loro aveva questo tipo di di atteggiamento eh simile mi è capitato di eh ho lavorato con con Rado Tedeschi quando per la prima volta che lui ha debuttato con l'uomo dal fiori in bocca abbiamo fatto un po' di stagioni anche qualche piccola tournée assieme ma assolutamente ho avuto mai da dire una roba del genere eh non no non ho avuto questa cosa questa cosa che mi aveva detto questa persona qua dicendo eh ma sai tu fai doppiaggio il corpo l'uso del corpo poi era una persona con cui io lavoravo tra l'altro quando facevo delle letture per un alle volte delle letture sceniche per cui diciamo guarda questa è una cagata tu mi conosci sai come gestisco il mio corpo poi per carità io non sono Marcel Marceau questo siamo d'accordo ma come non lo sono tantissimi tantissimi attori eh anche perché il nostro noi quando io vedo io ho un grande mi viene un grande nervoso ma nei miei confronti quando vedo certi certi attori molti attori anglosassoni no che siano comunque di formazione anglosassoni porca vacca questi cantano ballano sono dei mostri schifosi io li odio e ogni tanto mi metto a guardare cioè per esempio Hugh Jackman che dice Wolverine no che lì ha un fisico della miseria e tutta la cosa poi canta da Dio sa ballare cosa vuoi di più e questa è una formazione che secondo me è un peccato che da noi è un tipo di formazione che manca purtroppo almeno quando ho fatto io le scuole o conoscendo come venivano strutturate le accademie ai miei tempi di gioventù poi per quella cosa lì ma è una questione di metodo secondo me è chiaro che il doppiatore ha l'abitudine di dover essere già di dover cercare di capire di dover andare a cercare il nocciolo della questione nella battuta magari poi però in prima lettura si fai una cosa che è bella funziona però poi ha bisogno di costruire tutto quel substrato che necessita uno spettacolo quando va in scena e quindi di costruire un personaggio sicuramente magari l'attore esclusivamente attore di teatro ovviamente ha un percorso magari un percorso diverso che non è quello del cercare di avere quell'immediatezza subito perché è data da noi dal momento di dover vedere una scena rivederla rivederla ma poi farla e cercare di essere già precisi e in più abbiamo tra virgolette chiamiamolo supporto che è il viso del personaggio che noi andremo a doppiare per cui così però a me non è mai evitato poi ci sono attori che sanno doppiare molto bene e doppiatori che in scena non non sanno avere non riescono ad avere quella presenza che invece ha un attore diciamo vogliamo chiamarlo puro di teatro ma la formazione è quella sono sempre attori sempre di recitare si tratta perché alle volte si dimentica un po' che il discorso che chi sta nel buio di una sala col fatto che legge il fatto che lega un copione e che abbia davanti un'immagine sia meno attore anni fa mi ricordo un'intervista di una di un'attrice doppiatrice adesso non mi ricordo sinceramente me ne scuso il nome diceva noi siamo doppiattori nel senso che dobbiamo essere attori due volte per il nostro cosa perché poi dobbiamo soprattutto in un dovendo doppiare un essere umano dove tanto è già stato fatto da dall'attore diciamo dal titolare insomma della parte noi non dobbiamo sovrapporci troppo ci dobbiamo magari c'è una scena che noi avremmo fatto in maniera diversa però dobbiamo fare così perché così è stata fatta saremo scollati saremmo in questo caso magari l'anime ti dà una ti lascia una possibilità creativa maggiore ovviamente fermo restando che quello sta facendo il personaggio perché poi che sia un segno grafico o sia una persona in carne osa quello sta facendo e lì devi rimanere però puoi alle volte ti permette di giocare di più e di personalizzarlo maggiormente rispetto a vedi appunto la scelta che dicevi prima dei dei simpson di decidere di li han giocato poi sugli accenti perché alle volte quando ci trovi molto spesso nei videogiochi ma alle volte anche nei cartoni animati vedi il libro della giungla per esempio dove i personaggi hanno degli accenti diversi e quindi c'è quello che parla con l'accento australiano con l'accento scozzese con l'accento gallese New York ma Bronx Londra ma Cockney Oxford Mezzo degli Stati Uniti non so un afroamericano sono tutte sfumature di accento che noi o le trasformiamo in dialetto ma e nei simpson ci sta da dio perché tipo quello che parla sardo sono tante tante scelte che sono anche molto molto azzeccate che ridanno quel tipo di sapore lì però se no sarebbero molto difficili e molto spesso nei videogiochi questa cosa non si può fare a meno che non venga scelto di fare un discorso di linguaggio allora se tu fai un adattamento dove che ne so dai un tipo di linguaggio diverso per ognuno però poi rischi di diventare classista adesso diventa un casino della miseria perché poi politicamente corretto non si può più fare nulla oramai come fai a far parlare un personaggio in un modo e quell'altro in un altro che poi ti ammazzano subito tutti in certi casi possono anche avere ragione perché posso capire le loro le le insomma le da ciò che hai detto è che appunto parlando di anime cartoni animati ed essendo più segni grafici quindi tra virgolette meno espressivi i personaggi sono più malleabili scusa mi sono perso perché ho letto una cosa ma perché sei rimasto deluso per un attimo fosse Luca bontale del capo dei capi sono rimasto un po' deluso mi dispiace no ma guarda no scusami non ti preoccupare che a volte ridimi la domanda perché io ma no ma lo so mi sono perso ma ma sì ma poi ma benissimo uno può anche rimanere deluso mica casca al mondo ma no però mi sono perso mi rifai la domanda perché mi sono perso sì me la devo ricordare pure io un attimo scusa vedi forca vacca no stai parlando del segno grafico sì no no la cosa interessante che è uscito da ciò che tu hai detto che un personaggio di un anime di un cartone animato è molto più malleabile quindi improntargli e dargli anche una parte di sé sì quindi si collega la prossima si collega la prossima domanda che ti vuole fare Francesco che ti vuole fare che già la sa perché io già la so sì sì questo è un assist bellissimo io da adesso devo cercare di non sbagliare a porta vuota con le parole no vabbè questa è la domanda alla Gigi Marzullo ogni volta che facciamo una live io faccio una domanda vesto i panni di Marzullo quindi c'è qualcosa di Luca Bottale la parrucca col capello un po' con l'onda capisci a poco arriviamo anche in seconda serata non so non c'ho nulla per simularlo però va bene immaginate immaginate i capelli va bene c'è qualcosa di uso più in Luca Bottale o di Luca Bottale in uso nel senso c'è qualcosa che vi lega vivendo More Uxorio ormai da praticamente da vent'anni lui e io sicuramente sì nel senso che siamo coppia di fatto per cui ormai ci assimiliamo un po' come quando uno dice il gatto il cane assomiglia al padrone in questo caso non so chi dei due può essere il gatto cane o il padrone probabilmente il padrone è lui sicuramente c'è ci sono delle cose dei tratti appunto l'essere cazzaro ecco per esempio ma poi probabilmente sono stato scelto anche per quello perché per delle mie caratteristiche magari che ne so personali oltre che vocali per poterlo doppiare sicuramente ci sono delle cose che ci accomunano ma anche un certo senso di appartenenza di fedeltà di non sono questo avventuriero bestiale però ogni tanto qualche cagata l'ho fatta per cui ripensando dico che faccia di tolla per cui quello sì il piacere di stare insieme con gli amici di star bene di mangiare a cena qualcosa di buono di versare ti chiedono ti chiedono se dici bugie dico bugie boh come tutti sì ma non ho raccontato poi mai delle grandi palle magari ho fatto delle piccole omissioni ma quella non è bugia dobbiamo mettere verità dai sì no ma nel senso l'omissione uno non dice una cosa però stai raccontando parte di tutta una verità magari una roba un particolare che sfugge per cui insomma lo perfettamente d'accordo con te utilizzo la stessa tecnica grande non vogliamo sapere perché però boh peccati veniali proprio veramente ma sono sicuro ma sono sicuro che anche lui guarda no no guarda che non giuro io non ho vizi no io che volevo fare bella ci avevo pensato dico e poi ho detto no mi preparo l'acqua perché se no faccio insomma lì faccio quel bicchiere per cui c'ho solo l'acqua dovrei alzarmi no dovrei anche aprire la bottiglia per cui non è vabbè puoi dire che è grappa dai possiamo dire che è grappa fischia con sto bicchierone qua però mi mandano subito in riabilitazione allora Luca io ti vorrei fare una domanda che però non allora vada bene non è come quelle domande di ti ricordi il capitolo 340x perché il mio obiettivo è parlare di altri in realtà allora c'è una scena praticamente a Water 7 dove Asob e Rufy litigano e poi succedono tante cose poi Asob abbandona e poi ritorna c'è una scena particolare in cui Asob ancora non è tornato e c'è un famoso dialogo di Zoro dove è d'altronde doppiato da grandissimo Patrizio Prata ti voglio chiedere come è stato lavorare con con una persona che tu hai sempre definito un grande amico come Patrizio Prata ma guarda ci siamo divertiti molto adesso vabbè in questo momento è praticamente impossibile incontrarsi perché veniamo scaglionati negli orari nelle cose per cui ci si incrocia e basta abbiamo lavorato tantissimo assieme e poi ci siamo frequentati e ci frequentiamo tanto anche fuori proprio nella vita nostra quotidiana ma io mi sono sempre ho avuto sempre forse sono stato anche molto fortunato mi sono sono stati veramente rare le volte in cui non mi sono trovato bene a leggio con qualcuno o ho avuto dei problemi con Patrizio nello specifico siamo fatti risate su risate tantissime volte per cui è sempre stato molto molto bello lavorare con lui con con Pietro che dicevo prima con mi ricordo una volta con Diego Sabre con oppure anche non so mi ricordo quando doppiavamo una serie Amtaro con io ero spesso a leggio con Patrizia Mottola lei era incinta direi della sua prima figlia per cui lei ogni tanto si addormentava perché quando noi facciamo la prova poi lei poverina anche perché era abbastanza vicina diciamo allo scadere insomma a questa pancia grossa credo che insomma tante fanciulle che hanno avuto una gravidanza possono riconoscersi in questo cosa che noi non possiamo capire e allora lei ogni tanto si appoggiava e vedevo che chiudeva gli occhi solo che poi partivamo con la registrazione io le davo un colpettino però oh lei pam e partiva io le vorrei ma tu come cavolo fai veramente sì e vabbè ma le donne su questo lo sappiamo hanno sempre una marcia in più ok ok no no per cui sì no con Pat ci siamo sempre molto divertiti alle volte capita proprio veramente di non di ridere e non riuscire a fare l'anello io mi ricordo una volta era tipo fine luglio per cui uno degli ultimi turni prima delle vacanze eravamo credo in sala Diego Sabre lo Stefano Bertini e io in direzione c'era la Loredana Nicosia e e niente ci è presa sta cosa c'erano delle in sala c'erano delle non delle assi delle cantinelle di legno e noi ci è presa sta scemenza per cui passavamo davanti al video mentre uno doppiava ma tutto nel silenzio più totale con la roba davanti uno che portava poi quell'altro tutto per far ridere quello che stava doppiando perché era una scena dove magari gli altri due erano erano liberi oppure apparivamo davanti all'eggio tipo quelli che fanno un uoto sincronizzato no? ma sempre tutto sì arriviamo fuori tutto per far ridere o c'ero io insomma c'erano gli altri e la cosa era cercare di non ridere però alle volte scoppiavamo ovviamente a ridere e c'era Loredana e diceva vi prego vi prego voglio andarmene in vacanza era disperata e così comunque sì sono tanti i momenti che si può ridere sì 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 senti Luca invece io ti volevo domandare come sei diventato Usop nel senso hai dovuto sostenere un provino oppure hai un manager che ti ha chiamato e ha detto oh da domani sei Usop cioè come è successo? che io sappia manager nel doppiaggio non 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 ce ne sono no mi è stato sai che credo che mi sia stato dato d'ufficio forse non era stato fatto il provino ma perché all'inizio Usop non aveva una parte grossissima se non ricordo male proprio magari adesso dico una cavolata bestiale all'inizio diciamo che appena appare non sai se entrerà in giurma o non entrerà in giurma ecco per cui non vorrei dire ma forse mi era stato dato probabilmente non era stato richiesto il provino per quello e e quindi credo che mi sia stato dato l'ufficio da da chi faceva la direzione ok d'ufficio scusami vuol dire che te lo danno come se fosse una specie di comparsa cioè lo mettono così no no nel senso che questo personaggio lo doppi tu è il direttore del doppiaggio che quando fa la distribuzione alle volte capita quando devi fare una direzione che il cliente ti chieda dei provini su alcuni personaggi mentre su altri non 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 viene richiesto perché non lo non lo reputa necessario per n motivi per cui alla fin fine poi il direttore di doppiaggio che decide a chi assegnare il personaggio così in base alle caratteristiche del personaggio e degli attori insomma ci vedo un'altra domanda sempre su uso ricordi qualche scena magari in particolare che è rimasta proprio impressa per un qualche motivo beh allora sicuramente alcune allora alcune scene forse quelle dove lui poi alla fine quando piange l'ultima per ordine di tempo del film che abbiamo doppiato ormai l'anno scorso stampini perché poi alla fin fine mi ero commosso io mi ero messo a piangere protagonista assoluto dell'ultima e quindi era quasi una prova insomma già vista un po' così però sapevo e non sapevo che stavano registrando e comunque hanno tenuto quella parte lì dove in effetti piangevo veramente e questo è il bello quando insomma riuscire comunque alla fine il vederlo rivederlo rivederlo è un po' come appunto in teatro no? tu rifai tante sere per tante volte insomma si spera perché vuol dire che lo spettacolo ha una buona programmazione un qualche cosa e tu arrivi però comunque da tutta la tua giornata no? che può essere normale alti bassi una giornata qualunque di chiunque di noi e lì poi però tu hai un crescendo no? parti già con un difficilmente parti subito con vabbacola parte nei film di Muccino e con questo mi sono giocato qualunque possibilità di fare un po' non ero male non ero male è vero Gabri cerchiamo un po' di recuperare una scelentiatura sappi ecco ecco un caro saluto a Muccino sì allora bottale bottale no ma intanto già non ha problema perché sarebbe chi è quello lì? boh comunque no 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 secondo me si chiederebbe cosa ci faccio su una pagina di One Piece ma che non sai invece magari è proprio lì che rosica un caro saluto e quindi tu hai tutto un crescendo mentre lì appunto tu quella scena lì la vedi la rivedi la rivedi è un po' come se provate a ripetere una parola per tantissime volte questa parola poi a un certo punto diventano lettere e perde quasi completamente il suo significato per cui alle volte riuscire a invece a dimenticarsi di aver visto quella cosa e cercare di riuscire ad avere quell'immediatezza e quella freschezza dell'emozione insomma si imitare ad esempio lo stupore anche se non sei stupito si perché poi tu sei chiuso in una sala al buio al calduccio con i tuoi vestiti uno dei problemi dei grandi quesiti della recitazione era dire delle parole che non sono tue con vestiti che non sono i tuoi in una stanza che ha tre pareti oppure davanti a della gente che ti guarda come fai a essere dov'è la verità la verità non esiste però poi ci sono c'è l'attore del metodo che dice no ma io la verità me la vado a ritrovare dentro di me e quindi insomma cercare di mediare secondo me queste varie cose per cui cercare di riuscire ad avere quel rubare alla scena quella emozione per poterla ridare e quindi piangere realmente è figo secondo me ok ok perfetto allora rimanendo sempre su su asop che io tu ben sai io lo chiamo asop per me non è un problema uso asop uguale parto con il piccolo spiegone asop è forse uno dei personaggi più complicati di one piece perché lui è un un uomo in una ciurma quasi di mostri che che volano evocano assurdi demoni quindi lui deve cercare di ritrovare se stesso attraverso il superamento di delle sue difficoltà e quindi ci sono dei momenti in cui lui è forte tipo quando indossa la maschera fa il re dei cecchini o sono io così così e a volte in cui invece è fragile quindi un doppiatore in questo caso tu ti devi alternare con un uomo un personaggio che ha momenti di tristezza assoluta e momenti di gioia assoluta quindi io ti chiedo come è stato doppiare un personaggio che ha questi switch quello è figo secondo me ma perché è figo come è scritto nel senso quello sta bello nella scrittura del personaggio perché ha veramente tante sfaccettature alle volte poi lui è una spalla no è una spalla però poi è anche il comico è la spalla di 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 luffy o però poi è anche poi invece il quello che è quello che fa ridere sì per cui è già quello secondo me è figo perché ti dà una non è una tinca ecco insomma spesso nei in certi non è il caso di One Piece sinceramente perché non ci sono personaggi tinca però magari ci sono certi cartoni animati o certi anime dove c'è la buona o il buono che sono tagliati con l'accetta praticamente no ma nel senso che sono di una bontà che dici ma che dai ma di una parolaccia di certo voglia ecco no e alla lunga sono mica fa cioè sempre così buono sempre così sorridente sempre così gioioso è cribbio mentre invece poi magari arriva finalmente il cattivo ed è una figata bestiale perché poi è quello che ti mette quelli che adesso li chiamano i villain ma a volte con i cattivi ci si immedesima di più non volendo esagerare però è nel caso no ma ma spesso risultano scritti meglio i i villain anziché il protagonista poi per carità tutto l'universo disneyano sono fantastici ma perché poi hanno un risvolto a loro insaputa comico o comunque grottesco che li fa che li fa che li smonta no è proprio un gioco di scrittura per cui alla fin fine il cattivo è un povero sfigato che se malgrado sembri un super megafigo nel caso di asop che villain non è è figo perché comunque ti dà la possibilità di giocare su tante corde per cui veramente di avere una gamma espressiva che magari normalmente non 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 usi non usi così spesso soprattutto in un certo tipo di prodotti soprattutto poi adesso dove veramente da tanti anni un po' questa cosa c'è stato un po' un appiattimento anche di scrittura adesso io non so se sia non sto aprendo nessun tipo di polemica sugli adattamenti sia ben chiaro vero bellissimo di cui nessuno di noi è responsabile e la chiudiamo qua ok ok ecco quindi te la stai prendendo con i responsabili stai dicendo no banda guarda che allora vogliamo riprendere quel libro il famoso prequel so so essere rancoroso no ma nel senso sono tutta una serie di scelte giuste o sbagliate che siano non sta a me deciderlo certo a tutti piacerebbe che tante cose fossero mandate in onda per il pubblico giusto sappiamo che così non è ma ormai da 30 anni facciamocene una ragione ecco non so come dire lapidario lapidario io a me dire cacca o dire oh mi sembrava cioccolato ma non è non mi cambia la vita per cui sappiate no perché spesso eh perché voi ma noi diciamo quello che ci dicono di Dio certo siete un po' degli esecutori volendo essere cioè con tutta l'interpretazione del mondo nel senso nel senso sì come può essere ambasciatori della parola direi vabbè e ambasciatori non porta pena siamo in più a panda sul registro eh no ma nel senso se vengono a monte fatte monte fatte delle scelte io posso anche non essere d'accordo però allora cosa faccio o prendo la porta e ne vado o lavoro assolutamente no ma assolutamente nella vita chiunque di noi ma non è per essere codardi ma perché così no ma così la colla certo non non anche un rispetto dei ruoli alla fine perché se ognuno ma sì se tutti non fossero d'accordo poi non si fa più nulla a me è capitato di fare obiezione di coscienza ma non nel caso di un di un la chiamo così ma in maniera stupida nel senso che mi era capitato di dover spicherare un servizio dove si parlava eh in maniera molto sbagliata della magrezza eh soprattutto poi era un periodo in cui si parlava tanto del discorso eh dell'anoressia nelle modelle tutto quanto e il servizio diceva era una roba su un'attrice guarda com'è dimagrita eh allora si è separata mh è passata da una 42 a una 38 e dicevo capite è sparita non è che eh guardate che bella che è mangia so io ho detto ma siamo sicuri che vogliamo dire esattamente questa cosa in questi termini eh oppure un'altra volta perché ma forse era lo stesso giorno infatti non mi ha amato molto quell'autore eh ma no ma perché insomma c'era una una questione insomma lui faceva una 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 valutazione di merito assolutamente personale su una una inglese che partecipava a un reality ma perché lui stava sulle balle questa qui però questa qui aveva una disabilità e quindi la cosa finale veniva fuori che e questa qui va pure in televisione a farsi vedere ma tu sei fuori cioè io sta roba non la dico ma invece sia una figata che lei vada in televisione a ballare perché non aveva le mancava una gamba eh e aveva una protesi e allora ho detto no dico forse tu non hai capito è proprio questo che è figo perché lei sta facendo vedere che la sua disabilità non è una disabilità lei può fare e può essere una sprone enorme per tantissime persone che si trovano nella stessa situazione sì e che pensano di non invece di non poter fare delle cose mentre invece possono e grazie al cielo queste cose infatti sono state sdoganate ma vorrei vedere anche e lui diceva eh ma a me sta questa più una stronza che beveve io ma vabbè lei è fantastica lei è qualcosa di eccezionale proprio eh ma ma tantissima gente anche molto non conosciuta che fa delle cose straordinarie senza però lui col fatto che questa qui gli stava sulle balle e ho detto no guarda allora se vuoi questa cosa qui la dici tu con la tua voce io con la mia sta roba non la dico e allora è stato lui fa ah quindi fai abiezione di coscienza per me possiamo andare anche dai tuoi capi a parlarne ma io sta cosa non la dico in questi termini e infatti è molto interessante nel doppiaggio adesso anche perché poi io non capendo una mazza di giapponese che cosa vuoi che dica gli ho detto ah no ma veramente lui ha detto ma che ne so io io arrivo a con nichiwa e poco o onegai non so o kanjo o onegaishimasu dai siamo siamo tutti quanti sulla stessa barca alla fine che neanche anch'io non è che è massimo a me solo qualcosa tipo nani watashiwa e robe così insomma poi basta ecco già nani non so cosa sia nani vuol dire cosa ah grazie allora prossima volta che sento nani era anche una vecchia canzone di uno stornello romano se non sbaglio nani però vabbè non era quello io mi ricordo una canzone mi ricordo mamì 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 40d 40 noto a San Vittura c'ha Pai Mort però era una canzone era una canzone che cantava Ornella Vanoni le canzoni della mala vabbè voi siete troppo giovani ma ero ero molto giovane anch'io all'epoca forse non ero nato per cui le so per le so per interposta persone non siamo giovani ma ci portiamo bene i nostri anni complimenti guarda ti faccio un'altra domanda che è un po' strana come domanda occio ma non è un occio e allora però tu hai interpretato tantissimi personaggi degli anime si degli anime dei cartoni animati Brock di Pokemon Taro in Doctor Slump Usop Salem Salem tantissimi però del mondo del cinema di meno molte pochi e la domanda è questa chi viene dal doppiaggio dell'anime di un anime di un cartone animato è discriminato o ci sono altre motivazioni ma no guarda allora è molto spesso questione di mercato nel senso che lavorando io principalmente a Roma eh sì ciao Peppo volevo dire il contrario ho letto vedi sono un pirla io leggo le robe lì mi distrago e dico cagate no lavorando principalmente a Milano Milano ha non ha moltissimi prodotti con esseri umani sono abbastanza pochi per cui già quello è un fatto proprio appunto di piazza poi mi è capitato di doppiare per esempio ho fatto una bella cosa che mi era piaciuto molto ho doppiato Jamel Debusin Pollo alle prugne con la direzione di Monica Pariante un po' di anni fa era un film di Marianne Satrapi ambientato a Parigi era un film abbastanza strano lui è praticamente è il se avete visto Amélie è il garzone quell'attore lì è quello senza braccio esattamente esattamente che tra l'altro io l'ho capito ma molto dopo appunto parlando di prima io non mi ero assolutamente accorto che lui non ce l'avesse per dirti cosa come questa cosa fosse assolutamente invisibile non e forse sono io sono pirla ma quello è un altro per il ma no però veramente era una roba che non ho capito a un certo punto che lui non avesse il braccio ma non forse quando ho visto Amelino me ne ero proprio accorto e poi sì mi è capitato di fare qualcosa ho doppiato cosa che ho doppiato boh sì per il cinema a Milano adesso ho fatto una micro partena in un film che è uscito sempre da poco in previsti digitali ma faccio alla fine faccio una specie di traduttore simultaneo è una questione no non credo che ci sia una quindi è una questione di mercato tu dici sì perché comunque alle volte che sono arrivate al di là di che poteva essere sentieri o che ne so le sopopera o le telenovela che potevano esserci così mi è capitato di lavorare in telefilm in film oppure poi non vengo chiamato io punto e fine cioè prendetevela quei direttori sì sì se la prenderemo voi direttori allora faremo una ma no perché poi a volte faccio direzione anch'io per cui dovete prenderla pure con me e così no vabbè ma no ma boh sono tante le motivazioni non saprei dire ma non credo che ci sia una una sì poi a volte dicono eh ma quella quello fa il cartone animati secondo me allora chi lo dice e sicuramente c'è anche chi lo dice dice una gran fregnaccia perché vuol dire che allora non sai dirigere non sai oppure non sai capire le capacità che può avere un attore perché poi uno può essere super brillante ma può essere anche intenso nel drammatico non è sempre vero il contrario perché chi ha i tempi comici li ha punto chi non li ha non li ha punto eh in questo eh stasera cosa vuol dire dissing? eh non lo so scusate io non so io sono vecchio no e Girugarix scrive stasera è tutto un dissing cosa vuol dire diciamo creare polemica creare polemica no io non voglio creare polemica cancella tutto stacca 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 a tutti rivelazioni sì sì verrò chiamato nelle trasmissioni giuste eh no beh no nel senso che è un insegnamento di un'altra mia adorata insegnante con cui ho avuto la gioia di di lavorare l'anno scorso di nuovo in teatro che è la Grazia Mignieco e eh che è un'attrice spettacolare eh che quando la senti recitare non capisci dove finisca la recitazione dove inizi quando lei parla e ha una e io mi ricordo di averla vista in spettacoli eh drammatici dove veramente ti ti strappava il cuore ed è un'attrice comica con dei tempi che fanno a lei basta veramente fare un un gesto di movimento di testa di sollevare un sopracciglio così e e scoppi da scoppi a ridere e lei ha sempre detto ragazzi ricordate chi ha i tempi comici ce li ha uno magari può studiare può però se ce li hai naturali ce li hai naturali eh se non ce li hai può essere più difficile e ed è forse mi viene in mente eh non mi paragono a lui magari Alberto Sordi avevo letto un'intervista tantissimi anni fa alla Shelley Winters dove si parlava prima ne parlavano del discorso del metodo di un attore l'approccio a un personaggio no che era una maschera è stata una maschera comica spettacolare meravigliosa e allora chiedevano parlavano con chiedevano a Shelley Winters la differenza no dei vari metodi di attore e lei ha scelto di parlare di questa cosa lei faceva la moglie di Alberto Sordi nel Borghese Piccolo Piccolo e dice io ero abituata ad avere dovevo ascoltare un'audiocassetta per chi fosse nato dopo 1987 le audiocassette erano delle cose che si infilavano dentro una roba e si sentiva la musica non bastava non bastava solo schiacciare una roba sul telefono dovevo avere proprio un aggeggio a parte e quindi lei si ascoltava amico stretto dell'audiocassetta era la penna Bic esatto ma la penna Bic c'è ancora oggi ah beh certo per avvolgere per avvolgere altro che e allora le dicevo io ascoltavo questa cosa e mi portava al pianto e dovevamo fare questa scena molto drammatica e e allora poi dice alzo gli occhi e c'è Alberto Sordi che è appoggiato allo stipite della porta e si sta mangiando un panino con la mortadella e allora dice ma Alberto scusami adesso abbiamo la scena hai la scena della morte del figlio e fa sì e dice ho capito la scena il pianto il coso e fa sì e mangi il panino con la mortadella e poi lei dice lui ha fatto la scena ed era una cosa che ti toglieva il cuore e ti strizzava il cuore dal dolore che provavi vedendolo e quindi diceva boh però appunto lui grande anima comica è riuscito a dare dei momenti di ma anche guardando i sui ultimi film di 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 tragicità di di verità di intensissimi non sempre attori tre per assolutamente drammatici sono capaci di fare quello che può aver fatto lui o o o o o o la o la valeri o così ma perché lui è lui e voi non siete un cazzo è come vero è come vero è come vero sì 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 grandissimo assurdo altra domanda molto generica diciamo tra i personaggi che hai doppiato quello che ti è rimasto più dentro è perché proprio usop non sto scherzando non dare non dare la risposta da paraculo che dici usop ma no vabbè ma la verità io ogni tanto cosa perché sto giocchiando con sto filo di ferro ti dico che io gioco sempre con questa penna la faccio sempre ho fatto questa specie di scalettina del cavolo e però poi ogni tanto mi casca per cui ogni tanto io sparisco uguale con me che cede la pena quindi vado in cantina a raccogliere roba e però porca vacca usop c'è per forza ma perché è un personaggio che io ho portato avanti per tanti di quegli anni a cui sei per forza affezionato nel senso al di là del fatto che è divertente a me l'anime piace un casino mi piacciono i colori mi piacciono i disegni mi piace la ricchezza dell'immagine per cui ecco tutto questo fa sì che e poi perché come fa a non volergli bene il santo cielo cioè non lo so poi ecco poi sì per esempio Salem è un altro personaggio che mi è piaciuto molto mi ha divertito tanto ma perché era un po' bastardo sarcastico e quindi aveva quel 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 sapore lì oppure Kish in Tokyo Miu Miu che era un po' tutto era qualcosa di diverso rispetto a diciamo il canone classico dei personaggi che mi venivano assegnati per cui potevano essere sempre molto evidentemente ho una verve comica grazie a Dio mia e quindi comunque il cazzaro è caduta ancora e così mi riescono mi riescono bene ma Muccino io so fare anche il drammatico guarda ti dico una cosa mi è sembrato strano che invece tu non hai parlato di Brock dei Pokemon che comunque è un'altra serie che comunque è stata molto no è un personaggio che a me piace molto e che mi beh ma anche perché poi adesso è tanto che maledetti l'hanno tolto dalla serie no è un personaggio io ti parlo delle serie quelle iniziali non insomma lo so no no eh non c'è porca vacca no è un personaggio che a me è piaciuto molto che a me piace molto e devo dire molto divertente perché anche lui c'ha il momento di sbrocco soprattutto quando vede l'infermiera l'infermiera Joy e devo dire è anche abbastanza complicato dal punto di vista del respiro di prendere la respirazione perché quando parti con queste sbroccate qua insomma io poi fermo non ci so stare nel senso non riesco a stare per cui mi gesticolo a cosa cerco di fare sempre tutto nel silenzio più totale però poi c'è appunto il fonico mi dice Luca ecco magari se poi non salti ci fai un favore perché poi si sentono nell'asta del microfono alla fin fine i salti mi sento ma io poi non me ne accorgo e così un altro personaggio che in effetti mi è piaciuto molto ma perché l'ho fatto adesso capirete perché è questo Yo-Yo di Sim Salagrim è un cartone animato di tantissimi anni fa che facevo con Pietro Cubaldi lui faceva Doc Rock ed era ancora periodo in cui potevi doppiare con i colleghi e quindi facevamo sempre i turni assieme e c'era una cosa che Gabriele Calindri che faceva la direzione del doppiaggio diceva che era molto divertente vederci perché insomma io sono abbastanza alto Pietro è più alto di me e poi Pietro insomma ha una sua fisicità imponente però lo spazio davanti al microfono è quello insomma e anche Pietro è uno che non è che sta io ho imparato tantissimo da lui veramente tantissimo tante cose che io ho imparato a fare guardando lui ma guardando poi tutti i colleghi che io osservavo ma come fa chiunque di noi quando quando comincia o comunque come dovrebbe fare perché poi anche in teatro gli attori dicono il nostro è un mestiere di ladri noi siamo dei ladri dobbiamo rubare le cose a chi vediamo in scena o vediamo in sala o vediamo sullo schermo già doppiando un po' tu stai rubando qualcosa perché qualcuno l'ha fatto prima di te e tu te ne stai appropriando per ridargli una voce e quindi niente Gabriele diceva fa schiantare vedere vedervi perché sembrate sembra una sessione di tai chi dove fate tutta una serie di movimenti senza prendervi nel silenzio più completo e intanto recitate fate e seguite il cartone animato erano due personaggi che finivano nelle storie dei fratelli Grimm dove ogni volta c'era qualcosa che andava storto e noi dovevamo diciamo riradrizzare l'andamento della storia però di quello ecco il personaggio era carino era divertente la caratterizzazione vocale mi piaceva tanto però diciamo il ricordo più bello è legato proprio al fatto di quel gruppo di lavoro di Gabriele in direzione e di essere di fianco a Pietro a lavorare ti cito un personaggio ah ok vai no Gabriele in commenti Gabriele Spiriticchio dice che Pietro è anche il doppiatore di Gimbe e se One Piece tornerà in Italia vuol dire che ritornerete a doppiare insieme eh magari perché a me piacerebbe molto sia per fare sia per One Piece che per lavorare ancora con Pietro poi con Pietro mi capita di lavorarci eh comunque però sarebbe un un ulteriore bella cosa insomma stavo dicendo prima che Giacomo nei commenti ha scritto ha nominato questo personaggio di un videogioco che si chiama il videogioco si chiama Silver e è stato anche vedi ora lo ricordi ho usato quella cosa no ridi e svieni hai doppiato il protagonista e Silver è stato anche uno dei miei videogiochi preferiti quindi te la dovevo chiedere questa cosa adesso io vado su Google David il personaggio David Silver scusate era anche il protagonista pure si è un gioco di ruolo tipo non lo so in genere e sono anche su Google Silver videogioco David si ecco le stesse immagini vengono fuori ma san culo mi è piaciuto tantissimo lo ricordo con grande affetto devo dire perché no cosa fondamentale ma siamo sicuri che è stato Luca a doppiarlo si 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 è stato lui è stato lui ok allora no ripeto come dicevo prima adesso non mi ricordo perché ormai confondo la realtà con la fantasia per cui se prima quando chiacchieravamo tra di noi oppure già eravamo corum populi io veramente poi delle cose me le dimentico totalmente e mi è piaciuto hai detto che ti è piaciuto mi è piaciuto David Gemmel no no non è David no vabbè diciamo non riesce a trovare questo doppiaggio Toschi non riesce a trovare una faccia di questo silver maledetto ora perché adesso lo voglio capire porco cane ma poi una roba released 1999 ma ragazzi ma si parla ma no ma scusa ma siete sicuri io scusami io ho fatto si ho doppiato anche Cancuro in Naruto si non ci sono tantissimi ma non è famosissimo come videogioco ma di ma allora di quelli non lo so ma ci sono fan così sfegatati diciamo che ma io non lo so ma proprio voler mettere in difficoltà l'intervistato l'ha scritto Giacomo Giacomo Bianchi Beccari scattivo allora c'è la no giuro c'è la copertina non so se l'hai trovata ho visto sì che c'è tipo con la bianca armatura sì e con le due spade e le due spade ragazzi io giuro non me lo ricordo vabbè ma però vi posso dire che ho fatto atmosphere ecco quello era un gioco di ruolo vero però nel senso non è un videogioco sconosciutissimo infatti dice anche lui che era un quello è stato una figata bestiale perché è un è un gioco di ruolo che era una specie di gioco dell'oca però fatto in un cimitero inizialmente veniva fatto con una videocassetta tu mettevi la videocassetta che scansiva diciamo il il ritmo del gioco e ogni tanto arrivava fuori questo eh no ce l'ho sotto un vetro se no non vi posso fare vedere la foto aspetta faccio una foto della foto e ve la faccio vedere ma dimmi tu se uno può essere più scemo allora aspetta ok l'ho fatta la foto? sì vabbè è proprio fatta di merda eh ragazzi ma scusate scusate le spalle eh no ma figurati figurati ecco bravo ecco questo qua sì ok ok io sono lui sono io ok nel senso che mi truccavano per tre ore mi avevano una roba che è tipo tipo Hollywood e niente quindi insomma hanno dovuto rifare la cosa l'hanno rifatta con un DVD per cui hanno rifatto tutto sto videogioco qua e per cui alla fin fine mi hanno fatto il calco della testa con l'alginato come fanno tutte le protesi proprio come come Hollywood eh e poi ogni mattina mi appiccicavano tutta sta roba in faccia mi mettevano delle lenti a contatto eh sugli occhi eh e passavano più o meno tre ore io arrivavo lì alle boh alle sei del mattino eh tre ore tre ore e mezza di trucco e eh io poi tutto il giorno mi tenevo queste protesi sulla faccia e c'era una una signora un'oftalmologa un'oculista insomma eh che mi mi invece mi mi cosava gli occhi con per le lenti a contatto perché erano delle robe non erano delle lenti a contatto erano delle padelle che mi venivano infilate a forza sotto le palpebre in più graduate perché io avevo un prompter davanti alla telecamera e per cui io leggevo il copione lì e io ho detto ragazzi però se vuoi mi togliete gli occhiali io non vedo più una mazza per cui me le avevano fatte graduate ma la cosa figa vera figa vera vera è che tutta sta roba qui l'abbiamo girata a Sydney per cui io per dieci giorni sono stato in Australia ed è stata infatti poi non ho trovato parcheggio per quindici anni perché dopo che ti hai un colpo di culo del genere non non puoi pensare di trovare parcheggio poi per la macchina insomma e quindi quello è stato quel videogioco me lo ricordo io ho trovato un'immagine sicuramente si vede solo questo ah sì certo certo ma ti ricordi Panda che ne parlavamo settimana scorsa assolutamente ma come è che si chiama anche tu dicevi guarda non lo so non lo so non lo so ma secondo me era Silver vedi grazie grazie per la domanda bellissimo a me piaceva tantissimo quel gioco no guarda sicuramente sarà piaciuto anche a me ricordarselo però credo di avere bisogno sei un intenditore sei un intenditore ma no ma invece invece il vero intenditore si trova da questi particolari perché è facile dire ah sì sai ti ho sentito che ne so in mafia o in per ricordarsi un titolo per far bella figura neanche un titolo mi ricordo aspetta che c'ha il trone coso quello lì che vivevano nella doppia nella doppia non lo so guarda andiamo su Wikipedia che ne sa tutti noi ho fatto tanti in sacred io mi ricordo in sacred certo in driver altro che in league of legends non vorrei dirne la cosa in jack and daxter tutta la serie di sly sly raccoon quello quello me lo ricordo poi anche quel film è quello lì del regista di titanic che ha fatto le robe di quelli che lui è cameron ha fatto titanic avatar ho fatto avatar ho doppiato allora io leggo hitman sì questo adesso il signore degli anelli il videogioco videogioco sì 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 e poi può essere il poi vabbè harry potter pure il professor leighton ho fatto sì il professor leighton vabbè age of empires the conquerors ok il narratore della campagna attila cioè non è che io non ne capisco nulla dei videogiochi sono andato a leggere su wikipedia quindi cioè poi nella campagna di attila il narratore muccino il narratore eh gabri gabri per favore no vedi sono perfetto è inutile che continui a chiamare i parenti la parte ce l'ho la sua memoria cioè perfetto proprio è inutile che continui a chiamare i parenti io dico no beh guarda è un po' ingoiato coi parenti ultimamente credo non credo si parlino molto ah non lo so almeno è l'interesso di gossip almeno il personaggio più strano caratterialmente che ti è capitato di doppiare boh tutti forse il protagonista di silver penso era abbastanza guarda il protagonista di silver allora il protagonista di silver so che c'è stata mi ricordo che c'è stato proprio un lavoro anche personale molto molto interessante soprattutto per il discorso della intanto ho dovuto imparare a lucidare l'armatura perché così non è che la sanno fare in mondo bravo bravo e però io ho voluto dare un'impronta ecologica e quindi la facevo solo con ingredienti naturali e lì vuol dire olio di gomito che ecco certo mi era più il discorso introspettivo che era interessante molto introspettivo assolutamente guarda ti teniamo guidato io ti voglio fare una domanda un po' ecco oh signor che già ho fatto delle figure di merda no 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 allora non so se sai mi preparo l'acqua usop qualsiasi cazzata che dice poi si avvera tutte le bugie di usop si sono sempre avverate ah quindi tu dici che chiama no allora lui quando quando entrò in ciurma disse sono io il capitano l'uffio ovviamente gli disse no e lui disse va bene allora sarò il vice secondo te potrà essere o no il vice usop si che domanda difficile no perché devi sapere che all'interno di quella della nostra community all'interno della nostra community c'è questa diatriba tra chi è il vice capitale ecco che cosa intendeva qualcuno prima che ho letto perché io cerco sempre di dare uno sguardo poi vedete tutte le volte che do lo sguardo mi distraggo non sento quello che mi chiedete voi vado in palla e poi non trovo più prima ho letto una roba che qualcuno aveva scritto una roba e dico chissà perché ha scritto così e non riuscivo a capire ah e quindi tu dici così boh ma sai che io non me lo sono sinceramente mai posto sto problema qua ok ma cosa che dovrebbero fare tutti a questo punto basta litigare tra Zoro ma litigate per qualcos'altro ma no oddio finché si litiga per questo va anche bene meglio litigare per questo che per altro no però ma non lo so ma perché guarda che secondo me per come lui poi è vero che anche allora lui sarebbe felicissimo di essere capitano non lo metto in dubbio ma secondo me poi lui è un ottimo tra virgolette gregario nel senso ehm viene questa parola sembra quasi no il gregario povero sfigato in senso dispregiativo che invece no nel senso nel ciclismo il gregario è anche quello che ti aiuta a far arrivare coppi cioè è qualcuno di molto importante nel 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 meccanismo no come la spalla il il comico con la spalla quando facciamo le scenette a due eh se non ci fosse stata la spalla il comico non poteva far la battuta per ridere per far ridere per cui ci sono degli equilibri tra Totò e Peppino chi è spalla chi è comico probabilmente a seconda della battuta uno dell'altro eh ognuno era la spalla dell'altro capisci cioè era una figata perché era proprio un gioco che che si metteva che partiva tra di loro eh e così per cui poi alla fin fine ma secondo me capitano lo sono tutti è vero che poi ok e Luffy rubber guarda per me puoi continuare a chiamarlo rubber per me andrebbe no ma lo facevo per i puristi per ridere un po' questa cosa e non immagini quante persone si incazzano mi diverto tantissimo immaginare ma è chiaro che è giusto che ci debba essere no un protagonista che su cui però poi alla fin fine sono tutti assieme diventano tutti parte di un unico corpo eh ognuno con le sue particolarità che sia appunto Nami che sia Zoro che sia Sanji che sia Luffy che sia Usop o che sia anche porca vacca che non mi viene il nome Zoro Niko Robin Niko Robin grazie Niko Robin eh no perché a me poi mi viene a dire il nome con i nomi dei doppiatori no per cui vedi che sia la santa che sia Prata che sia Scatorina che sia Renato eh oppure la Valenti che fa e Chopper oppunque ci siamo fatti di quelle risate con 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 la Federica ma in questo anche in altri in altri in altri che un giorno riusciremo a intervistare se la trovi se la no è troppo simpatica è troppo simpatica lo so alcune sono raggiungibili eh lo so ma perché poi ma tra l'altro lei poi credo che io non sono particolarmente attivo eh anche perché poi commento poco cioè commento se c'è da commentare una cagata la commento sul resto eh non me la diciamo che lascio stare perché non ho voglia di preferisco passare o preferisco vivere eh però Federica non è particolarmente attiva anch'io anche per esempio Instagram ma poi faccio delle foto dal punto di vista diciamo lavorativo posto poco per esempio su Instagram poi di lavoro posto veramente pochissima roba e quindi così però sì no anche con Federica è super carina veramente è stata un'ottima come è stata un'ottima oggi ma perché prima quando avevo aperto Facebook ho letto cosa e c'era un un ragazzo che mi chiedeva se conoscevo la Monica Bonetto e così anche lei si è stata una grande collega una una cara amica che ricordo con sempre grande piacere grande tenerezza che non faceva parte di di One Piece però insomma Conan è stata abbiamo fatto insomma abbiamo fatto tante cose assieme anche con Monica e quindi va bene guarda Luca va bene ti faccio un'ultima domanda per chiudere dai Nami o Nico Robin cioè lo chiediamo a tutti secondo me però io più Nico Robin ok praticamente qui siamo tutti d'accordo penso siamo d'accordissimo allora figo una bestiale poi però Nico Robin non so secondo me più con un'onomatopea sì sì vogliamo chiudere con un'onomatopea non vogliamo indagare oltre ti dice dei Jelen Guampi c'è uno che ti piace particolarmente mi era piaciuta tantissimo a ricordarsi del nome bello l'età di merda descrizione la doppiava la Jenny de Cesarei una cattiva che rideva sempre e che me ne ha date ci siamo andati ci siamo tirati saracche per non so quante puntate con capelli rosa i due ciaspolini per una per una per una per una infatti ma roba che abbiamo urlato come dei disperati per giorno perché poi sta roba qui tirava avanti un po' tipo quando Mila e Sciro tirano la palla o quelle del calcio e la porta arriva dopo sette giorni praticamente era la stessa con la collina ma perché poi alla fine era stato proprio divertente la Jenny l'ha fatta secondo me da Dio perché poi la cosa figa è quando tu vedi certe cose ma come anche quando vedi anche semplicemente recitarlo l'attore quando vedi che si diverte ma anche in una cosa drammatica poi uno si può divertire un casino a fare una roba che che si dilagna e si lacera ma perché non è il divertimento della risata è il piacere di fare quella certo 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 e secondo me lei si è divertita un botto ed era una roba super bella un po' come vedere Christoph Waltz in Glorious Bastards che fa Hans Landa una parte che dice che culo cazzo orua Shoshanna eh si bravissimo stupendo lo sai che Tarantino non voleva girare più il film perché non riusciva a trovare non riusciva a trovarlo si ma dai non riusciva a trovare l'attore giusto fin quando alla fine arriva lui beh e dice cazzo allora lo faccio si 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 beh secondo me la parte più bella cioè per un attore secondo me quella è la parte più figa difficilissima trovare quella misura la cosa perché poi lui lo si prende in giro se stesso cioè sono tanti tanti piani di di cosa proprio Waltz prende in giro il suo personaggio ma non lo rende ridicolo per cui c'è comunque un occhio di di esterno di se stesso che è secondo me super figo ed è la parte più figa cioè ecco appunto come dicevamo dei cattivi è un cattivo della madonna la scena del un botto di parolacce mi accorgo no ma figurati tanto Gabriele parlo molto più pulito però volendo sai essere anche molto più scurrile assolutamente sì assolutamente assolutamente aspetta quando hai dovuto urlare 20.000 volte martello di Eusop contro l'uomo pesce sì il combattimento sì ecco quelle cose lì sono quelle robe che di solito ti capitano alle 9 del mattino dove tu magari la sera prima non ti ricordavi che avevi il primo turno di doppiaggio e quindi ho detto ma no ma stiamo fuori ancora un poco beviamocene un altro ma cosa sarà mai ma cosa sarà mai all'epoca avevo anche un altro tipo di recupero oggi sarei praticamente appeso a delle stampelle tipo così e quindi per cui tipo mi era capitato una volta dovevo fare una pubblicità la sera prima io ero uscito cosa non avevo fatto tardissimo ma neanche prestissimo il giorno dopo la cosa che dovevo fare era uno scioglilingua quando io l'ho visto è venuto male perché ho detto non ce la farò mai poi non so come ci sono arrivato ma quando l'ho visto mi insegna ad andare a letto presto quando il giorno dopo lavoro perché poi è tutto un problema ecco dimmi tutto allora dopo domani è il mio compleanno auguri sì grazie 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 usop mi potrebbe fare gli auguri c'è altri o tanti auguri tu però tu stai abusando stai usando l'uso del mezzo pubblico a fini privati assolutamente sì assolutamente sì allora non posso urlare perché secondo me poi i bambini qua sotto dei signori di sotto ti chiedo però ma ce lo diciamo a bassa voce tra di noi allora e che poi faccio le facce da stupide perché quando doppio poi faccio le facce da stupide e fai sento un perla Alfio ti aspetto sulla Goin' Mary dobbiamo andare tutti insieme a festeggiare il tuo compleanno bellissimo io ti amo fantastico fantastico bellissimo io direi che così con gli auguri io ho le lacrime ho le lacrime mi sto emozionando davvero possiamo chiudere grazie Luca davvero grazie per essere stato simpaticissimo veramente ma sicurati abbiamo tenuto due ore penso però ci siamo divertiti tantissimo ma sì ma sono volate guarda io voglio più Luca Bottale ragazzi ovunque ovunque hai capito Gabriele i tuoi film venderebbero tra l'altro non avresti tutte le menate delle stronzate che dici sul doppiaggio italiano ragione tanto per non dissare nessuno tanto per è bellissimo io andrei avanti per altre tre ore però anche io a dire il vero però penso che Luca certa c'ha da fare ma infatti c'è in chat stanno piovendo curi stanno vivendo di vita propria ma giustamente così Luca sei stato veramente simpaticissimo è stato un piacere immenso averti qui è stato semplice con voi insomma perché grazie a voi grazie mille grazie mille Luca speriamo di ritrovarti nei panni di Usopp presto eh speriamo sì perché guarda grazie al cielo c'è stato questo questo film che è stato veramente figo e quindi mi ha fatto piacere devono fare live action su One Piece però non la serie tv non so se hai sentito questa notizia ma sì poi intanto però poi però chissà magari utilizzano le stesse voci io io non io non penso perché sono due due mezzi completamente diversi sai farebbero male a non farlo dal mio punto di vista capito Netflix capisci capitemi è per un fatto filologico ma certo assurdamente solo per quello non è per tirare l'acqua al mio mulino è per avere un certo tipo di capisci di continuità anche per cosa no sì sarebbe un grosso errore va bene va bene non ti tratteniamo più di tanto ciao comunque guarda tanti cuori in chat sono per te grazie grazie mille grazie a tutti sei stato simpaticissimo ma speriamo di ritrovarci presto pure dai ne famo un'altra di staserata facciamo un'altra però adesso dovete smarcare tutte le cose che abbiamo detto io intanto non me le ricorderò per me poi mi richiede no qualche domanda magari me la ricordi ma questa poi tante altre no ecco ciao ciao buonanotte grazie ancora buonanotte grazie ancora buonanotte a tutti grazie a tutti